Parla tifoso napoletano. Benvenuti nel nostro canale di notizie Napoli, dove portiamo le ultime informazioni sul club e sui suoi movimenti nel mercato dei trasferimenti. Oggi abbiamo delle notizie interessanti sul giocatore Yunus Musa, vicino al Milan. Il Napoli, però, agisce in modo dirompente e raccoglie informazioni sul centrocampista americano. Scopriamo maggiori dettagli su questo possibile scambio e su come potrebbe impattare sul Napoli. Secondo nostre fonti, il Milan non ha ancora raggiunto un accordo definitivo con il Valencia per l'ingaggio di Yunus Musa. Intanto il Napoli sta tentando un'azione dirompente, valutando la possibilità di portare in società il centrocampista americano. Musa, cresciuto in Italia e desideroso di tornare da protagonista, è amatissimo dall'allenatore Stefano Pioli e il Napoli vede un'opportunità per inserirlo nella propria rosa. Il Valencia, però, ha resistito alle offerte del Milan, che non hanno ancora raggiunto i 25 milioni richiesti dagli spagnoli. In questo contesto, l'interesse del Napoli per Musa potrebbe complicare ulteriormente la trattativa del Milan o addirittura indicare una possibile concorrenza per il giocatore nei prossimi. Giorni il Milan dovrebbe rilanciarsi per provare a chiudere l'acquisto di Yunus Musa. Il Napoli, dal canto suo, continua a raccogliere informazioni sul centrocampista americano, tenendo d'occhio questa situazione in continua evoluzione. La concorrenza per il giocatore si preannuncia guerrita, ma il Napoli è determinato a rafforzare la propria rosa e cercare talenti che possano contribuire al successo della squadra. Resta sintonizzato sul nostro canale per seguire tutti gli aggiornamenti sul Napoli e lo sviluppo di questa trattativa. Speriamo che il Napoli faccia le scelte giuste e porti garanzie di qualità per la prossima stagione. Forza Napoli sempre!